Grazie a tutti Sono arrivati gli abbonamenti per la 1 maschile e io, Botto e compagnia, vi aspettiamo Cosa succede? Cosa hai in mano? Ho gli abbonamenti Per far cosa? Non lo so Dimmelo tu Per venire a vedervi forse? Ma sì dai, mi aspettiamo numerosi e mi raccomando Ciao, io sono Nicola, venite a rivederci Dai! Quindi? Ah vado? Quando vai?